Questa si chiama Zuppa Canterina. Perché mai canterina? Ah, ecco dovevo immaginarlo. La mia zuppa è poco armonica. Forse si sgancia con questo tasso. Gelati! L'avete capita? Siete cuochi, quindi mi intendete... Lasciamo stare. Buono, non è vero. Attenzione, frittelli in arrivo. Oh, le tue frizzi sales. Ti aiuto, Merck. Bene, allora raffreddiamo un po' quest'atmosfera festaiola. Ecco fatto, le abbiamo raccolte tutte. Loretta, mi sembri diversa. Cos'hai fatto ai capelli? Mamma, papà, crateri sono congelati. Sono tutti congelati, tranne noi. Merck, non so che cosa stia accadendo, ma conviene trovare qualcuno che ci aiuti. La porta è bloccata dal ghiaccio. Che lavoro faticoso! Non ho certo scelto la strada del furto perché mi piacciono i lavori di fatica. a Gatfly. Mi chiedo come abbia fatto a congelare tutti. Qui si mette male. Chi è stato? Chi vuole un assaggio del ladro d'alto lignaggio? Gatfly, Garnet? Oggettini high tech? Mi prendo questo e questo e quest'altro. Il combo congelatore! Se Gatfly l'ha usato per congelare tutti, forse c'è un modo per invertire l'effetto e riuscire a scongelarli. Proviamo a capovolgere questa parte. Ero un complessamento bloccato! Finalmente ora posso tornare a lavorare! Ehi! Ah, io ti conosco, tu sei quel moccioso testardo. Come ti chiami? Marrò, Mori, Misha, Marvin, insomma, come ti chiami? Mi chiamo Miles. Non ci crederai, ma ho invertito il raggio congelante. Ah, ah, no. No! No, 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 no! Mi sentivo un po' gelato. E non intendo quello che si mette sul cono. Oh, che cosa è che fa così freddo qui? Che mi è successo ai capelli? Scagnazzi, occupatevi di loro. Agli ordini, capo! E io intanto mi occupo di questa! Per caso hanno ordinato... delle torte? Non mi piace il tocco! Ehi, non ci vedo! Oh no! Bel colpo, Merck! Cos'altro c'è nel menù? Frittelle fritte volanti! Chi ne vuole? Sì! Anni andati! Sì! Maisto al futuro! A Disney Junior!